Vogliamo fare un primo bilancio di questa partnership che ormai è in atto da un po' con la Teramo Calcio sul settore giovanile? Per noi questo è il primo ciclo, la prima stagione 16-17. Penso che sia, come ho sempre detto, una collaborazione intelligente da ambo le parti perché il Teramo si è privato di un ramo di azienda, chiamiamolo così, che è forse il più impegnativo per tanti aspetti perché ha a che fare con i bambini, con le famiglie e anche per quanto riguarda i numeri nostri perché in ogni caso abbiamo 250 bambini, il che vuol dire 250 famiglie, con un potenziale di 1000 persone, considerando 3. Quindi il lavoro che sono fatto è un lavoro ottimo, questo ci è concesso grazie penso alla qualità degli istruttori, la qualità dello staff, la qualità del personale, la qualità della segreteria, degli uffici di lavoro, del marketing, della comunicazione, del commerciale. È un'area abbastanza ampia che arrivati agli 11 anni in ogni caso dona tutto quello che ha la Teramo Calcio e questa è la cosa che mi fa enormemente piacere. Parlando proprio di Teramo Calcio, tu da ex capitano e direttore generale Bianco Rosso, come valuti gli arrivi di Repetto e di Asta? Penso che si è sbagliato quindi è giusto correggere gli errori. Secondo me una valutazione fatta oggi è veramente approssimativa perché bisognerà aspettare non solo il campo, perché io penso che il campo in una società sia la parte che vedono tutti, ma dire al campo ci sono tantissime dinamiche, tantissime situazioni che si muovono, poi il campo penso che sia il risultato di tutto quello che si muove dietro. Quindi penso che in ogni caso il Teramo abbia bisogno, come ogni società, di ristrutturarsi, come avviene ogni società a fine anno, ristrutturarsi bene, programmare, programmare con intelligenza e con cognizione di causa. Se queste cose vengono fatte io penso che una piazza come Teramo il Lega Pro possa fare sempre bene.